Dopo l'approvazione dell'offerta della Proges, per l'IPAB e l'Arcaro, la struttura pubblica per l'Anziani Doloradese, parte ufficialmente di ITE per la trasformazione in fondazione. La Proges, che gestirà la struttura, ha presentato un'offerta di 4 milioni e 727 mila euro, rialzando di 227 mila euro la base d'asta di 4 milioni e mezzo. L'esito e le future fasi della vicenda, che si è sviluppata partendo da una forte crisi economica, sono state presentate dal commissario straordinario Ivana Nervi nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Delfino alla presenza del sindaco di Ovada Paolo Lantero. Prima della trasformazione in fondazione saranno chiusi i debiti contratti grazie al canone anticipato, poi tutto l'edificio sarà ristrutturato a fasi per poter continuare l'attività. La nuova fondazione controllava tutto il percorso che sarà avviato per il restyling, che passa anche attraverso interventi migliorativi, sia dal punto di vista tecnologico, con la digitalizzazione del sistema informativo ricettivo, che da quello relativo agli operatori sanitari e al volontariato. Saranno mantenuti infermieri H24, operatori della riabilitazione e della fisioterapia. Il LACAO sarà quindi diviso in aree, fra le quali quella destinata ai malati di Alzheimer. Avrà una disponibilità di 90 posti, di cui 80 convenzionati con l'ASL Alessandria e i comuni della zona, e 10 privatistici. L'IPAB oggi coinvolge 5 comuni, Ovada Tagliolo, Silvano D'Orba, Belforte Monferrato, Rocca Rimalda. Il prossimo passo sarà la firma dell'ogito notariale, tra l'ente rappresentato da Ivana Nervi e la cooperativa di Palma che lo gestirà.